Noi tendenzialmente richiediamo come competenze digitali in primis la curiosità e oltre questo un'analisi sui numeri e un dettaglio delle cose. Quindi il digitale non sono i social network, il digitale è strategia, è numero e soprattutto è capire come ritornare valore ai consumatori, alle persone che consumano prodotti o servizi attraverso di esse.